Automazione per la sicurezza ed efficienza energetica delle abitazioni con l'obiettivo del risparmio. Sono i due temi forti di Smart Building Expo, nuovo format fieristico nell'ambito di sicurezza 2017. Qui si parla di connettività. Il piano banda ultralarga prevede 10 biliardi di investimenti nei prossimi due anni ed entrerà direttamente nelle nostre case. Così la domotica, come spiega il project manager di Smart Building Expo, Luca Baldin, non è più un lusso ma una necessità. Dentro il piano banda ultralarga entra anche l'edificio perché l'edificio è l'ultima tratta della rete. Quindi questi enormi finanziamenti stanno sviluppando un mercato importante che poi si tradurrà evidentemente in applicazioni perché nel momento in cui la banda ultralarga arriva nelle case degli italiani immediatamente si apre un universo di possibili applicazioni che miglioreranno sicuramente la nostra vita. L'industria impiantistica ed elettronica italiana è la seconda in Europa e studia sempre nuove soluzioni per le case connesse. Il sistema domotico di Bticino si chiama My Home App, Valerio Traversi è Product Manager Marketing di Bticino Italia. Attraverso un'applicazione diamo la possibilità da un lato ai nostri primi clienti che sono gli installatori di configurare la casa attraverso smartphone e tablet e successivamente agli utilizzatori finali la possibilità di gestire luci, tapparelle, la temperatura, la diffusione sonora, tutte le funzioni di casa attraverso una semplice applicazione. La multinazionale Delta offre diverse soluzioni per lo smart building. Si va dall'automazione dell'edificio al fotovoltaico, passando per le colonie di ricarica delle auto elettriche e la videosorveglianza per un edificio in continua evoluzione. Per le abitazioni propone una batteria da 6 kWh per il fotovoltaico. Edilo Ciuffarella, direttore generale EMEA Smart Buildings. Ci sono dei numeri importanti, definiti dalla strategia energetica nazionale, stiamo parlando di 110 miliardi di euro fino al 2030 solo per l'efficientamento energetico, ma questo mercato va creato con gli operatori del settore giusto, con la competenza e creando una diffusione della cultura vera e propria. Non solo big, a Smart Buildings Expo ci sono start-up come Midori, nata dall'incubatore del Politecnico di Torino, che presenta NED, un sistema che rileva i consumi di energia, collegando una pinzetta al quadro elettrico di casa. La di Cristian Camarda spiega che l'obiettivo è educare all'efficienza energetica. Noi riusciamo a riconoscere le impronte elettriche di ogni singolo elettrodomestico e ricavare questa informazione senza che l'utente debba riempire casa di sommetti energetici. A quel punto l'utente può scaricare l'app e sull'app può vedere ogni giorno quanto consumano i propri elettrodomestici, ma non solo, può capire se i propri elettrodomestici sono inefficienti, se sono da cambiare e direttamente dall'app può vedere quali sono le opzioni di acquisto più convenienti sul mercato.